Chiamo un altro, ho dovuto pagare io quei soldi mia e non l'altro di quei soldi loro. Quindi chi dovrebbe pagare in pratica i costi della crisi? Quindi dovremmo pagare la crisi? La crisi è un'altra cosa. Il governo Monti se lo devono pagare quei soldi loro, hanno voluto loro. Che ho voluto io? Ha votato te? No, ho votato io. L'hanno chiamati loro perché non erano buoni a farlo. Se lo pagassero con lo stipendio loro. Perfetto.